Musica Bella a tutti ragazzi Qua è Teo Qua è Spider Mesme Che scende dall'albero Aia E si fa male perchè non è capace Allora La puntata di oggi consisterà nel Mesme avrà il compito di rifare Qua la casetta perchè Dice che non gli piace quindi Oh è troppo cubettosa Il gioco è cubettoso Non so se te ne sei accorto però Si ma Quello è un altro discorso Quello è un'altra storia E quindi la rifarà un po' meno Cubettosa Cioè più che altro non è che la rifaccio La decoro E intanto io magari espanderò Magari questa parte di qua E forse anche dall'altra parte Dove c'è lo spawn dei mob E vi ricordate quei due begli alberoni E probabilmente li abbatterò Anche se mi dispiace Che ci stavo affezionando E poi è spuntato anche Sto mega alberazzo Cioè mega alberazzo Nano Nano albero Nano albero E guardate con questa No texture pack Che Magari vi lascerò in descrizione Sia questa che quella Che utilizzavamo prima Con questa texture pack Guardate le Le cose di glowstone qua Sembrano Avete presente i croccanti Quelle robe lì Che Si comprano Da mangiare Ditemi se lo siano Quella roba Eh Tanta roba E dai Consolati sto mangiando biscotti Ho voglia di croccante E ripeto che sto mangiando biscotti Compra più croccate Violenza Allora Iniziamo con la battere Gli alberelli Gli alberelli Allora picconi Tu ne hai Hai piatto giù un volo Se sbaglio Piccone piccone c'è E poi Pietra Non ne abbiamo vero Ne ho un po' io Eh Ma lo sto usando per le mie mansioni Eh mi serve Se no non possiamo espandere più niente Ho sbagliato Aspetta Finesco qui Vabbè intanto io batto quest'albero qua E un albero E' andato Mi chiami dispiace Era bello grosso Cazzo Ma sembra che in skyblock Sti alberi Ci hanno Si fanno Eh meno male che non sono i rami Di quelli della giungla Si fanno di steroidi Iii Quelle specie di baobab Fanculo Com'è che il tuo cane Non sta bagliando Dove favore sempre No Ah si allargando tu di qua Sti allargando tu dirà No no Allora passami poi la Pietra Ma guarda quanto legno Ve l'ho passata cappero Ah si l'ho vista Non ci avevo fatto caso Ne abbiamo a bizzef Filiati 54 blocchi se ne vanno prima di quanto pensi Ma io dico di legno Si ma qui Ma a te Oh Mi allarghi gentilmente le zona da parte dietro Si arrivo eh Prendo solo sto oltre un copo Perché se no mi Mi pianto giù un volo Che è qualcosa di bestiale Arrivo Che cosa sono bloccato Cosa è che ti devo espandere? Da parte di dietro dell'isola Dove c'è praticamente il resto della casa Di qua? Eh si perché se no volo di sotto mentre lavoro Ok Proviamo una cosa Ok Proviamo a rimuovere il legno adesso Sembra carino Sembra Carini e coccolosi Carini e coccolosi Schipparo Vai dai E' sempre meno cubettoso di prima Mi piace una caga assurda di cadere Non sei l'unico Secondo te perché ti ho fatto allargare l'isola? Così va bene Questa è l'ultima fila che ho fatto Si ma A me l'importante è che Che riuscivo ad andare intorno alla casa Poi il resto Sei tu che mi spingi? Stavo cercando di andarmene ma andavi nella mia stessa direzione Allora Interessante Ah va Fammuc Ok Allora Tagna Do Devo andarmi a fare Altri Un'ascia Allora Vediamo un po' Ora col tu due alberelli Senza volere Abbatterò pugnazzi Come si faceva un tempo Anche io una volta tiravo pugnazzi come te Poi mi sono beccato una freccia nella gamba Ma cosa? Senti eh Non siamo su Skyrim E comunque è una freccia nel ginocchio È gamba e ginocchio C'è gamba e gamba È sempre quella la zona Hai ragione Ma non del tutto Allora Tac tac C'è ancora di legna qua Infinita Allora Tac Ok Direi che ci sta Adesso mi devi soltanto dare un'opinione a te Ovvero? Secondo te Devo lasciargli il bordino anche sopra Come è così adesso Oppure toglierlo Come ho fatto su tutto il resto Il bordino sopra? Questo Aspetta Quello che ho appena rotto Ah Ok No lo tolgo stamere Sì levalo Beh bravo Non ci dona Dov'è la luna? Non ci dona C'è mezza luna Eh Guarda che luna Ma vai a cagare Guarda che mare Dove? Uh mele 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 Non cadute le mele? Sì una E si è sprecato Mela dai Ah 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 Minchia che coglioni Questa battuta di merda Ho raccolto un po' di canno da zucchero Fra un po' uscirà la seconda ristampa Del nostro libro Boh Questa piantagione dovrò rifarla Prima o poi Un po' dovrei aver tosto tutti quanti i pezzi di legno Quindi Dovresti Dovrebbe iniziare a sfaldarsi Se infatti Ok Ok Allora andiamo a depositare qualcosa E' già meglio così Io mangio una mela Prendi una mela E me la mangio Ah 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 Ridicolo Ridicolo ragazzi Ridicolo Non si può Allora Questa gente Chiudo Ti regalo due pezzi di legna Se vuoi Ma che gentile E daie Due anni per spaccare Un cavolo di cubetto Muoviti To Ah Ale Fa così Eh Dovamo salutare qualcuno Sto cazzo No Sto enorme cazzo No Dovamo salutare qualcuno Non mi ricordo però chi Vabbè la prossima puntata No Vai a vedere su youtube No No prossima puntata No vai a vedere su youtube I saluti si fanno su jungle Ma dai Ma se l'altra volta l'abbia fatto su skyblock Coglione Ssh Zitto Questa è la regola Dai vai a vedere un attimo su youtube Mi lasci lavorare Ma vaffanculo che non stai lavorando Vaffanculo sto scusa Dai ci metti un secondo vai un attimo Insulti gratuiti Dai Che palle Ci metti un attimo Sì ma sei pesante Vediamo un po' Forse qua Come okram Left the game Che cazzo Ma come Che è successo Sarà entrata per un attimo okram Mi sa Nooo Infatti mi ha appena chiesto scusa su skype Ciao Ciao Salutiamolo Magari poi si guarda il video Aspetta Ma dove cavolo è il commento del saluto Anche me su jungle Sì o su No dovrebbe essere su skyblock No Su Non l'ultima di Si era qua drop forever Allora ciao drop forever Bella drop Si ma sta venendo una merda sto bordo Sto Bordo Poi Rivedrò col mio tocco Ah comunque abbiamo cambiato anche la La texture pack Perché non Non si vedeva con l'altra La faccia alle zucche E come Ceteo non poteva vivere Senza salutare il suo bambino Assolutamente no Ma anche questo qui Non potevo Guardarlo Ma di là ci deve essere niente No andiamo a vedere se c'è qualcosa Magari c'è qualche mob E invece no Tutto tranquillo Allarga un po' l'iva Ho 11 pezzi Fotteli bastare Magari qua giù possiamo fare il laghetto poi Eh sì Solitamente Lago Significa Erba Poi non so tu Mi devo inventare qualcosa per sto bordo Forse così Proviamo un poco Cosa ci fa sto scalino qua? Non me lo chiedere Matteo Non voglio neanche sapere come ci è arrivato Quindi guarda Te lo tolgo Raccogliamo un po' di foglie Per il Per le zucche E le angurie Le devo solo levare vero? Sì Basta che non rompi i semi Poi tutto Devo levare con la mano normale Non servono attrezzi o cagate varie Puoi toglierli con la mano normale Oppure col falcetto Per comodità più veloce Vengalo levati con la mano Accoricevi biscotti di merda Bisogna rifare il terreno adesso Vero? Sì Il facetto l'hai lasciato nella... Ce l'ho io Te lo passo Buttalo giù Lo butto in fronte No Che pirla No non posso più buttare la roba dal balcone Cos'è? È volato di sotto Ok ho visto Eccolo qui Vado 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 Boh Ho migliorato un po' la casa Lì Un po' mi è Bettosa così E altre ancorie Ti sarà da ridere Anzi Facciamo ridere un po' il pubblico va Ta 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 Adesso devo andare a fare il tetto E qua sono Cristi Perché facciamo ridere un po' il pubblico? Eh Perché È facile che volo di sotto Ecco Uno Ale Vuoi C'hai la fame piena Se no ti do qualcosa da mangiare Preferisco morire Aspetta Allora Uno l'ho messo Qua non cresce Cazzo Due Tre Quattro Ho finito gli scalini Ta na 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 Fa un culo Mi mangi un biscotto A me è come le donne Quando è depresso si mette a mangiare Ma va a fa un culo va Si mette a mangiare le briochine Ah a proposito Augure tutte le donne Visto che è la festa della donna Eh visto che magari sta puntata la uperemo Tipo il 10 marzo Beh sapete che l'abbiamo registrata durante il giorno della festa della donna Abbiamo fatto un po' di mente locale Ta na na Come che non cade st'albero qui C'è qualche tronchetto dentro Ah Sono caduto di nuovo Si si è sentito E ho piazzato uno scalino Ma vaffanculo Ah ecco c'è il tronco Bastardo Fanculo Ok Boh Ora secondo me Possiamo anche staccare qua Minchia c'è Abbiamo già un blocco da 64 E uno da 9 di legno Quello ancora da fare Minchia Cazzo sto alberazzo Ci ha fruttato Un'altra ne spuntata di zucca già Sono veloci le zucca Mamma mia Mia Ho fatto un altro po' di scalini Mettiamo a posto Oh una mela E' un'altra mela Ok butto tutta la zucca La pietra dentro Ah vi Volevo far sapere Dato che Nel video scorso Mi sono accorto che Laggavamo Perché siccome Mesme fa il server E non abitiamo Proprio attaccati C'è un Un po' di lag Infatti adesso Adesso no Infatti non dovrebbe laggare Nella Nel video Perché Io sono a 4 di connessione Lui anche Di solito lui a 4 Io sono a 3 Cioè Adesso sono No sono 5 le tacche Allora lui è a 5 Io sono a 4 Vedo tra le 3 e le 4 tacche Quindi Non sa contare Assecondatelo Vabbè va non parliamo Perché qua Vabbè dai Te lo posso concedere La signora depressa Zitta puttanella Sei tu la puttanella Che mangia i biscottini Gli ho finiti Mi sono immaginato Che me lo dicevi Con una troll face Gli ho finiti Comunque Facciamo Passiamo Passiamo ai saluti finali No E invece si Beh dai Casa nostra Assume un bel aspetto Finalmente Piazziamo sti Sti due tronchetti Uno Due Tre Quattro E E E E E L'altro Magari mettiamolo Qua dai E Va bene qui So che ci do piazzare anche una torcia Adesso Ok Che dici Matt Io piazzerei Un alberello qua fuori Con quale terra? Eh la andiamo a prendere Sono sbagliate nella cesta E invece no Sì si è sbagliato ancora La Ma Quanti cosi di cattolo? Tappa qui per favore Dove sei? Qui A fianco al cubetto di terra Tappa non caderci Tappa Sì tu che l'hai rotto Sì ma perché volevo vedere se potevamo andare a recuperare il cubetto di terra Però a quanto pare No Quindi Allora niente Anche qui possiamo recuperare Eh che cap Su lock Ok dammi Dammi Vabbè Me lo scavo un cubetto di pietra Fanculo Oh vieni facciamo i saluti finali Ale Mi chiamati finisco nel buco Eh Sono quasi venti minuti Ok Niente po' per Allora per oggi è tutto Sì ma vieni qua dove sono io Ma cazzo sei Qua Veloce prima che arrivi il tramonto veloce che devo fare L'uscita tattica Vedi dall'altra parte insieme al nostro amico Zuccoschi Bene ragazzi Il video è terminato Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace Commentate E Consigliateci cosa fare Eh Vabbè ragazzi Alla prossima Ciao 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 ciao